Ben trovate e ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnesa Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Ricordiamo che in A1 panoramica, fino alle 6 di venerdì 20 novembre, è chiuso per lavori propedeutici alla manutenzione delle opere d'arte il tratto, compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e il ronco bilaccio verso Bologna. In alternativa, si può utilizzare la direttissima. Ci spostiamo in Fipili per incidente, è un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Pisa Nord-Est e Navacchio nella carreggiata verso SGC Firenze-Livorno. Uno sguardo al traffico ferroviario per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo il regionale 11756 Siena-Firenze è fermo nella stazione di Empoli. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze sul viadotto del Ponte all'Indiano, prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!